C'è uno che non posso fare prima, ma ho detto attraverso la domanda di un'idea. C'è uno appareggi? Quello che vedete, l'allena e gli angeli. E poi, mamma, forse, non so, il drittono certo è vero. No, 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 io sto a fare neanche. No, io sto posto, io sto a dire. Ti piace? Chia! Non bisogna ragionare che farlo adesso. Ma che ci piace la differenza? La Roma! quando non è stato? io sono andata a me io sono andata 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 vero subito siamo pronti sicuramente mi sento sicuro di dire che non sarà come l'anno scorso e acconteremo a partita sicuramente quello scelto molto diverso l'anno scorso insieme l'anno scorso insieme sicuramente abbiamo già sbagliato l'anno non succederà ancora come quando io ho fatto l'incidente e ricordo che voi grazie a me